Benvenuti in questo nuovo video, io sono Kiko Zeta e io sono Maramauo de Cat. Oggi vi voglio parlare di un argomento molto delicato che ha causato molti problemi all'interno della community di One Piece Card Game. E non solo. E non solo. Da decenni in moltissimi TCG, tutti praticamente. In molti mi avete chiesto di fare un video su come riconoscere le carte originali da quelle false, al che ho deciso di investire una piccola quantità di denaro acquistando delle carte dalla Cina chiaramente false. In questo modo riusciremo a fare un paragone dettagliato su diverse tipologie di carte, tra cui le carte leader alternative e le carte personaggio, che sono quelle carte più vendute attualmente nel mercato. In questo video Kiko vi aiuterà a ridurre al minimo il rischio di incappare in truffe e rimanere fregati, facendovi capire quali sono gli accorgimenti, le cose a cui prestare attenzione per distinguere una carta vera da una carta falsa. Una caratteristica che accomuna un po' tutti i tipi di truffe, trasversalmente, sia per quanto riguarda le carte false, sia per quanto riguarda i truffatori, di quelli che non ti spediranno mai le carte che hai comprato e quindi stai semplicemente facendoti rubare i soldi, sono accomunate dal fatto che i prezzi sono molto bassi, molto appetitosi. Quindi questa è la prima red flag, per usare un termine, un inglesismo, per identificare, che ci mette la puzza sotto il naso, è la prima cosa a cui stare attenti. Esatto, infatti noi tutti i collezionisti e giocatori ci affidiamo a Cardmarket. Per chi non lo conoscesse, Cardmarket è il sito che ha attualmente i prezzi più bassi nel mercato per quanto riguarda le carte singole e anche prodotti sigillati. I prezzi più bassi non truffa, perché poi ci sono prezzi ancora più... Ecco, se trovate il prezzo più basso di Cardmarket... Cardmarket... Esatto, se trovate il prezzo nettamente più basso di Cardmarket, questo può significare che la carta che sta vendendo questa persona sia falsa. Quindi, guardate bene il prezzo, se vedete che il prezzo è leggermente inferiore a quello di Cardmarket, vuol dire che magari il venditore sta cercando soltanto di monetizzare in maniera veloce. Quindi, occhi i prezzi, un'altra cosa anche importante da tenere in considerazione sono le foto e i video in controluce, perché in questa maniera si possono riconoscere i dettagli che poi andremo a vedere adesso nel video, che vi fanno capire se la carta è falsa oppure originale. Prima di entrare direttamente a vedere l'elenco di punti a cui fare attenzione per distinguere carte originali e false, faremo un piccolo test alla sottoscritta e quindi anche a voi, all'area dello schermo, e Kiko quindi ci darà delle carte e guardandole io dovrò dire se sono originali o meno. sappiate che non ho mai visto carte false, quindi... però non ho neanche mai osservato più di tanto le carte originali, quindi vedremo. Ok, quindi diamo inizio al test, via! Allora... Bene. Allora, adesso guardando così... Qua abbiamo due carte, ok? Due carte personaggi alternativi, giapponesi. Allora, sono diverse, si vede. Questa qua è più rossa, questa qua invece è più scura. Ok, puoi avvicinarla anche alla webcam e controllarla tu stessi. Allora, volevo fare una... indovinare così... Ah, secondo me questa è quella vera e questa è finta. Adesso vediamo. Prima una, poi l'altra. Partiamo da questa. Beh, è sberlucicante. Ok. E poi guarderei dietro, però dietro sembra finta. Perché? È un po' ruvidina, tipo, non è liscia, di solito non sono più liscia. Però no, guarda, c'è la texture, anche forse, questo lo brilla. Non lo so, no, sì, sì, qua, qua ha la texture, non è liscia, ok? Poi l'altra. Vediamo l'altra. No, questa è la texture, non quella là! Questa è quella vera! E come vai? Eh, ma guarda, c'è la tantissima... Aspetta! Aspetta! Sì, c'è, questa qua si vede proprio tutta a quadratini. Ok, ma al tatto come le senti? Sì, questa si sente poco, questa è tutta. Sì? Sì, sì, qua, tipo questo sfondo qui è tutto di texture. Ok, però... E lo sfondo, infatti dietro è liscia. Ok. Eh, giustamente, guarda. Ok. Dai, questa qua l'ho sgamata e questa qua quella è falsa. Qual è? Questa è falsa e... non ve lo dire. Questa è falsa e questa è vera. Ok, metti a video. Poi lo metti a video. Ok, allora... Non lo spiegare? No. Allora, tu adesso hai dato il tuo voto, diciamo la tua opinione, però ti sei aiutata con le dita, col tatto, ok? Sì. Quindi questa cosa qua a una persona che vuole acquistare una carta è impossibile. Cioè, la persona si affida solamente agli occhi, a quello che vede. E tu all'inizio, quando le hai viste, cosa hai detto? Che questa era più rossa e questa era più scura. E secondo te quella originale qual era? Era quella più scura. Ok, quindi secondo te questa è originale? Sì, solo guardando, sì. Bene, poi dopo con l'utilizzo delle mani hai capito che in realtà probabilmente quella originale era questa. Sì. Ok, difatti la carta originale è questa qua. Sì. Perché chiaramente se uno ci passa le dita o comunque la vede in controluce riesce a notare questa texture che è molto più accentuata rispetto a quella di prima. Forse l'ideale è farsi mandare un video da qualcuno che ha la stessa carta che tu vuoi comprare, cioè, e chiedergli dov'è la texture esattamente. Per esempio qua è qui, in questo punto qua. Ce n'è tanta. Esatto, ma adesso poi lo vedremo più nel dettaglio. Qua la texture cercano di imitarla in qualche modo, ma soprattutto in questa carta non si vede, si vede solamente lo strato luccicante che, per esempio questo qua, sulla gamba si intravede una piccola texture che anche al tatto comunque si sente leggermente, ma non come la carta originale che si sente proprio lo strato ruvido che, a differenza di questa carta qua, si trova nelle fiamme. Quindi, cosa importantissima è il video in controluce e fare attenzione perché se si vedono questi strati luccicosi non vuol dire che la carta sia originale. Quindi occhio, ragazzi. Guardate anche qua, per esempio, si vede tantissimo e qui è liscia. Perché anche nelle foto e nei video la gente non riesce comunque a capire se le carte siano effettivamente originali oppure no. Se sbrillucica e basta è fake. Ok, adesso vediamo insieme. Beh, confrontandone due, l'avendoci sotto gli occhi così è più facile. Se avessi avuto solo una e avessi dovuto dire è vera o falsa sarebbe stata molto più difficile. Ok, quindi per prima cosa vediamo che i colori di questa carta sono molto più opachi rispetto a quello originale. Come vedete i colori sono più accentuati, più chiari. E io avevo pensato è fake perché ci hanno messo più colore per farla sembrare vera. No, invece è vera. Invece è il contrario. Qua vediamo che la carta è molto più scura, molto più opaca e lo strato luminoso, lo strato lucido c'è sempre, ma la texture manca nettamente, anche se magari in video può sembrare che ci sia un minimo di texture. È molto meno bello. Quindi lo strato lucido non manca mai, però fate attenzione con carte come queste che sono molto facili da falsificare che il colore risulti molto più lucido, comunque che non sia un colore molto opaco, perché questo è uno dei segnali in cui si può capire che la carta sia falsa. Quindi mettiamo queste un attimo via e diamo un'occhiata a un'altra coppia di carte. Adesso faccio un confronto tra carta inglese e carta giapponese. Non guardare. Quindi da una parte abbiamo la carta inglese e dall'altra quella giapponese. Bene, puoi girarti. Ok. Solo con lo sguardo, senza toccarle. Dimmi quale secondo te è originale e quale è falsa. Allora, a primo sguardo questa a destra è più luccicante, questa in giapponese. Sembra più riflettente della luce. Forse dipende dalla mia prospettiva. No, è più riflettente, però è più scura. In effetti questa sembra colorata a pastello e questo a pennarello per dire. Quindi questa di sinistra è secondo me quella originale perché ha i colori più vivaci. Ok, diamogli uno sguardo più da vicino. Allora, questa è quella che secondo lei è falsa. Allora, la carta appare, sì, leggermente più opaca rispetto all'altra. E come diceva lei, si intravede uno strato luminoso a effetto tipo arcobaleno. Per le scende. Riesco a replicarlo, comunque farlo vedere. Si vede, non so se notate, questo luccichio. Sì, di tutto il contorno argentato è molto luccicante. Molto luccicante, cosa che le versioni originali non hanno. E andiamo a vedere adesso. Questa è la versione originale. Come vedete lo strato luccicoso c'è, ma non così esageratamente come quella che abbiamo visto prima. Vedi, c'è un piccolo accenno, no? È più discreta. È più discreta, esatto. È un po' più di classe, è un po' più classy. E invece i colori si vedono che comunque sono decisamente più chiari, almeno da quello che vedo io. Mettiamola subito un attimo. Bella, eh? No, diciamo che i colori qua se la giocano, ok? Non hanno un grande divario. Però vediamo che lo strato luccicoso arcobaleno non lo presenta questa carta. Sì, è proprio quella per le scende. Esatto. Poi, altro fattore da tenere in considerazione, soprattutto per le carte leader, è anche qua la texture, che è diversa rispetto a quelle personaggio. Allora, qua per texture intendo il contorno, soprattutto il contorno nero delle carte, che sono molto, molto più lucide rispetto a quelle delle carte false. Vediamola insieme. Allora, come vedete qua, il contorno nero, comunque la parte disegnata in nera, appare più lucida. Adesso se riesco a farvela notare. Ma dentro... Ecco, se vedete per esempio qua... Ah, lo sfondo nero. Lo sfondo nero. Cioè, no, sì, non è uno sfondo, l'ombra. Si nota che è molto lucido rispetto al resto del disegno. Anche vedete il contorno qua nel colletto. E qua vediamo, per esempio, nella bocca che si vede questo strato molto lucicoso. Ok. Che se non lo mettete in controluce non si vede nemmeno, cioè sembra appare opaco. Però se lo mettete in controluce in questa maniera qua riuscite a vedere che c'è comunque un lavoro abbastanza curato dietro e anche nel contorno dei capelli. Questa cosa, nelle carte giapponesi, hanno cercato di imitarla ma non ci sono riusciti molto bene. Allora, se infatti vediamo lo sfondo nero è abbastanza lucido ma non tanto quanto le carte originali. Si prova a creare questo effetto lucido e se notate nella bocca di Doflamingo l'unica parte lucida o comunque simil lucida è quella dentro la bocca e la lingua rimane tutta rosa per dire, no? È un punto da tenere molto in considerazione. Se vediamo, per esempio, questa qua, anche la parte della lingua ha l'effetto lucido. Questo perché anche l'ombra comunque è stata curata. L'ombra è lucicante. Esatto. È shiny. Mentre l'altra, come vi ho fatto vedere prima, questa cosa non ce l'ha. Allora, un altro fattore da tenere in considerazione è l'effetto arcobaleno, o meglio... Perlescente. Perlescente. Che è un riflesso che si vede molto di più nelle carte false, mentre nelle carte originale si intravede ma non esageratamente. Quindi noi in particolare stiamo guardando adesso qua dove c'è il nome del personaggio. Esatto, come vedete qua il riflesso è davvero molto, molto accentuato. Forte, decisissimo. Mentre in quella originale... Si vede e si intravede, diciamo, non è un... C'è meno, deve esserci proprio la luce che picchia in un certo modo. Esatto. Nell'altro è iper riflettente, è esagerato, è diciamo una pacchianata di nuovo. Ok, quindi questi sono i fattori. Allora, il contorno nero, controllate bene che sia molto, molto lucido, perché le carte leader hanno un effetto molto lucido nello sfondo nero. Adesso vediamo un'altra carta leader. Ok, mettiamo in paragone queste due carte e vediamo se Mara riuscirà a indominare. Vedo delle righe orizzontali, ma sia lì che lì, però qui mi sembra che siano un po' più orizzontali. Ma le posso sollevare? No. Beh, qua il colore mi sembra un po' più netto. Qua sembra quasi scolorito in confronto. Sì, questa qua... Ah, è difficile! Questo è difficile! No, ti do il permesso di prenderle e controllarle una alla volta. Controlla prima questo. Metti l'incontroluce, vediamo in base a quello che hai capito prima se è... Ah, questa è iperperlescente, guarda, come sotto fa l'arcobaleno. Ok, poi... Sembra My Little Pony, sembra. Poi vediamo se c'è un altro, un altro fattore che ti fa capire che la carta sia falsa. E poi abbiamo detto che devo vedere il nero, se è lucido o no. Ah, qua è tutto lucido. Anche gli occhi, le pupille, tutto... Sì, abbiamo detto che le carte false sono riuscite a fare anche la parte lucida. La parte lucida, sì, però dicevamo... La parte scura lucida. Nelle ombre, ma a me sembra che qua... Cioè, forse bisogna distinguere se è tutto lucido o solo il nero? No, mi sembra che sia solo il nero lucido. Però no, più che altro è questa superperlescenza che mi fa sospettare di questa carta. Ok, adesso guardiamo un'altra. Ok, poi il back ne parliamo... No, ma il back ne parliamo dopo. Questa... Anche questa è troppo luminosa. Qua sono due falsi, secondo me. È troppo luminosa? Sì, guarda qua. Ah no, forse... No, no. Cioè, vedendola con gli occhi non sembra tanto, ma vedendola nello schermo sembra che sia tanto perlescente. La luminosità, vediamo... Cioè, incontro luce, tutto il nero è bello lucido. Non lo so, è troppo difficile, mi arrendo. Ok, qua allora vediamo che si vede molto lucida la parte nera. Ok, anche lo sfondo, i disegni sono molto lucidi, però non presenta l'ombra, diciamo, come abbiamo visto con Flamingo, che anche l'ombra era abbastanza lucida. Questa qua non ce l'ha. Cioè, il nero è lucido comunque. Mentre questa io la vedo leggermente meno lucida rispetto a quella inglese. Tra queste due l'originale è quella in inglese. La differenza in foto non si nota quasi per niente. Questa è il colore più sciapo. Sì, questa è leggermente più scura e questa è un po' più chiara. Al tatto si nota veramente tanto. Cioè, lo strato lucido e ruvido, è leggermente ruvido, che si trova dietro, non si sente, non si percepisce. Ai lati però si sente un leggero... Una zigrinatura. Sì, esatto, leggera. Mentre nella versione originale, se uno ci passa il dito... Cioè, il dito è come se si... Sembra quasi che il lucido te lo trattenga, no? Tu come passi il dito va piano. Poi quando passa nella parte normale va più veloce. E finisce, sì. Invece qua c'è più attrito. Esatto. Però questo testo non si può fare. Quindi sull'occhio comunque il rosso qua è nettamente rosso. Là invece, guarda, il rosso è un po'... Esatto. Però a video effettivamente si nota meno, eh. Però il rosso è più c'è l'acqua alto. Quindi qua, in questi casi, dobbiamo fare attenzione che la parte lucida, come vedete quella a sinistra, è molto, molto più accentuata rispetto a questa qua di destra, che si vede, ok? Però, ecco che si vede, ma non tanto come questa. Vedete che questa è proprio... Sembra quasi brillante il lucichio rispetto a questa qua, che appare molto più opaca. Ok. Quindi, ci sono situazioni in cui è molto difficile riconoscerle, fate sempre attenzione, chiedete sempre foto, ma soprattutto video, in controluce, così da vedere, o comunque, se non siete al sicuro 100%, chiedete a due persone, magari che vendano la stessa carta, di farvi dei video e voi paragonate i due video e li capirete se la carta è effettivamente originale oppure no. O comunque potete entrare nel nostro gruppo Telegram, che è sempre linkato nella descrizione in tutti i video e potete mandare il video che avete ricevuto e chiedere un parere. Ci sono vari occhi di fan con il gruppo che sono allenati, diciamo, a riconoscere questi dettagli. Ok, un altro fattore importante è il back della carta. comunque se notiamo il verde della carta, forse non si vede, ma quella sotto è molto più accentuata rispetto a quella sopra che sarebbe quella falsa, ecco così si vede. Sotto abbiamo l'originale che è molto più chiaro e sopra quella falsa. È una tinta molto più viva. Esatto. Mentre evidentemente questa patina che mettono per dare l'effetto lucido è anche un po' opaca e quindi trattiene un po' il colore e toglie di vivacità il colore. Ok, adesso guardiamo il back. Ok, il back è un fattore fondamentalissimo per riconoscere la carta originale o quella falsa. I back sono molto opachi, questo è sicuro al 100%. Unica differenza, come vedete, qua abbiamo un colore leggermente più scuro. Decisamente, è una tinta decisamente più scura, mentre questa è decisamente più chiara. Mentre questa qua è decisamente più chiara, che vuol dire che la carta è al 100% falsa. Questa qua? Sì. Fake! Mentre, mentre le carte personaggio... Adesso le metto qua. Vediamo. Già non mi ricordo più qual era vera e qual era falsa. Ok, allora qua la differenza si vede veramente poco, anzi secondo me non si vede nemmeno. No, dai, sì. Allora questa qua... Certo, occhio nudo si vede meglio che... Diciamo che... Aspetta, mettiamole tutte quante. Le leader è più facile da distinguere, perché questo è chiaramente falso. E questo invece è vero. Invece tra quelle normali e non leader è più difficile distinguere. Esatto. Magari l'unica differenza forse che ci può aiutare è che questa qua, che sarebbe quella originale, è leggermente più chiara rispetto a quella normale. È in quello vivido. Quindi per metterla con l'ordine mentale, queste sono le false e queste sono le vere. Esatto. Le carte leader hanno il back più chiaro, mentre le carte personaggio hanno il back leggermente più scuro. Più scuro. Ci vogliono proprio freccare. Esatto. Per fortuna le carte leader si riescono a riconoscere meglio osservando il back della carta. Sì, visto che magari è difficile... Ok, quindi ragazzi, occhio a questi fattori. Facciamo adesso l'ultimo paragone, così da chiudere il cerchio delle carte false e originali. Te lo dico subito? Sì. A occhio, eh. Però guardandole dal vivo, da qua non lo so. Allora, falsa, falsa, vera, vera. Perché questa è scura e questa è scura rispetto a queste che sono più con colori vivaci. Questo a occhio. Ok, ti do subito la risposta. Partiamo da miocche. Allora, tra questi due, la carta originale, mi spiace dirtelo, ma è quella inglese. Allora qua, ragazzi, le differenze sono veramente minime. Non si intravedono per niente. Il riflesso, come vedete, c'è in entrambe. Forse se lo mettiamo così si vede anche qua. Ok, il riflesso, purtroppo, arcobaleno si vede in entrambe. Differenze qua non ne notiamo molte perché anche questa qua che è giapponese, che è falsa, diciamo, presenta questo strato lucido. Ma, a differenza di questa qua, di quella originale, non ha una texture, come vedete. Però può capitare che la gente faccia delle foto, tipo così, e faccia sembrare che la carta abbia una leggera texture. A vedere così magari non si vede. Sono fatte troppo bene, ragazzi. Però al tatto sono nettamente false, solo al tatto. Quindi se in casi come questi non riuscite a riconoscere se la carta sia effettivamente originale o no, affidatevi ai piccoli dettagli. Per esempio, vediamo... A mailbag. ...un piccolo dettaglio. Qua la scritta. Vedete? La scritta della carta falsa è molto più scura, ha un contorno molto meno bianco rispetto a quella originale. Ma non è la differenza giapponese-inglese, magari? No, no, no. Adesso vediamo anche due carte giapponesi. Le scritte delle carte originali hanno un contorno più spesso. Il bianco... cioè più bianco e meno nero. Esatto. Cioè più bianco e meno nero. Ok. Mentre quelle giappone e quelle false, vedendolo così zoomato non si nota molto, ma se lo vedete, se vi capita di vederlo magari così, riuscite a vedere che la scritta è molto meno bianca rispetto a quelle originali. Poi notate anche la texture della carta dietro. È una texture che nella carta davanti non c'è. Vedete? Però se vi fanno le foto così a voi sembra che ci sia una texture. Ma qua vedete comunque uno strato che sembrano dei brillantini. Questo perché c'è la texture. Eh, una volta qua non c'è da in mano poi lo vede. Il problema è... Texture sia sul disegno che sullo sfondo. Sì. È evidentissima occhio nudo la texture. Ma in video poi soprattutto se uno te lo vuole nascondere... Vediamo adesso carte che hanno poca texture, come questa qua. La carta... Allora, la carta originale è quella inglese e come vedete non presenta quasi nulla a livello di texture, non ha strati testurizzati. Mentre questa qua... Ovviamente non ce l'ha di natura, però cerca comunque di imitarla in qualche modo. E lo strato lucido di questa carta è solamente questo... Raggio. Questo raggio, ok. Mentre la versione originale è completamente lucida, anche se non si intravede, però se non si riuscite a notare... Il volto di Luffy, si vede che la carta è decisamente più lucida rispetto all'altra, che pare molto ma molto più opaca. Vedete che... Risulta molto più opaca. Il fattore importantissimo è l'opacità della carta. Se vedete che la carta è più opaca del solito, aspettate a comprare e cercate di valutare o comunque di paragonare altre carte. Ok, qua strato lucicoso, che non manca mai. E questa carta è molto più lucicosa rispetto all'altra. Vediamo invece la scritta. Ah, bravo. Ok, come vedete la scritta giappone... La carta giapponese è una scritta molto ma molto più nera rispetto a quelle originali. Sì, quindi le fake è quasi come se fossero scritte in grassetto. Allora, tu mi dicevi... Forse non riescono a stampare così fine. Tu mi dicevi perché queste erano inglesi, erano giapponesi, quindi magari la scritta era diversa. Invece, se guardiamo quelle giapponesi, originali e quelle false, questa carta è originale e questa è falsa. Ok. Ok, mettiamo l'insieme e notiamo che il colore è molto più bianco di quella falsa. Sì, c'è molto più bordo. No, non c'è più bordo bianco, è la scritta che l'ha in grassetto. Ok, la scritta della carta falsa risulta molto più nera, se notate. È come se fosse in grassetto. Esatto. Se in una foto, se in una foto della carta voi vedete che la scritta sembra quasi leggibile e quasi completamente bianca, vuol dire che probabilmente la carta sia originale. Ok. Se invece in una foto vedete la scritta... Bella, visibile. ...leggermente visibile, comunque abbastanza scura, questo vuol dire che la carta è falsa. Ok. Sono delle cose che si vedono molto di più in prima persona. Poi guardiamo il back. Quindi dicevamo che quella più... Il back è più scuro e quella più falsa, è quella falsa, per quanto... quando parliamo dei personaggi. Quindi questa qua è la falsa e questa è la vera? Sì, giusto. Questa è la vera, sì, perché ha il back, come vedete, più chiaro rispetto a quella falsa. Ce la possiamo fare. Ok. Ciao ragazzi, devo scappare, è stato un piacere rechicco chiedere il video. Ricapitolando, vediamo quali sono gli aspetti da tenere in conto prima di acquistare una carta. Vediamo allora. In primis, la carta deve avere una texture. Se vedete che la carta non presenta texture, allora vuol dire che la carta è palesemente falsa. Qua sulla bandana notiamo una leggera texture, ma non è abbastanza rispetto alle versioni originali, perché sappiamo che le versioni originali hanno una texture molto, ma molto più accentuata. Quindi non fatevi fregare da queste simile texture, ma fate bene attenzione. E, come vedete, la carta è molto, molto, molto opaca, quindi questo è anche un fattore da tenere in considerazione. Poi, secondo fattore, se vedete delle carte che hanno degli strati lucidi come questo, non fatevi fregare, perché l'unico, diciamo, lavoro che sono riusciti a fare in maniera leggermente decente sono gli strati lucidi, e quindi la prima cosa che vedrete in una carta falsa saranno gli strati lucidi. Non fidatevi se vedete questo lucichio, non fidatevi se vedete questi fattori. Fate bene attenzione, prima di acquistare guardate, controllate, perché non sempre una carta che presenta degli strati leggermente lucidi sia una carta originale. Quindi, andiamo avanti, vediamo il nostro terzo fattore da tenere in considerazione. Guardate sempre la scritta di ogni carta. Se vedete che, come questa carta qua, è una scritta molto, molto leggibile, vuol dire che la carta è falsa, perché nelle versioni originali le scritte sono molto, molto più bianche, o comunque presentano meno nero rispetto alle versioni normali. Quindi, vedete qua, la scritta è quasi leggibile, perché il bianco copre tutta la parte interiore della scritta. Mentre qua, vediamo che è decisamente molto più nera rispetto a quella originale. Questo è un altro fattore da tenere in considerazione. Non fatevi fregare dallo strato lucido e nemmeno da questi piccoli strati che sembrano presentare una leggera texture. Le carte alternative non presentano strati testurizzati così leggeri, ma sono decisamente molto più accentuati. Ok, questa. Poi vediamo le carte leader. Fate attenzione anche qua, perché le carte leader sono molto, molto facili da falsificare. Guardate bene, lo sfondo, lo sfondo nero deve essere molto, molto lucido. In questo caso vediamo che è lucido, ma non abbastanza da farmi capire che la carta sia originale. Fate sempre, cercate sempre di fare un paragone con diversi venditori, quindi fatevi fare i video da più venditori per capire se effettivamente sia originale oppure no. Per quanto riguarda le scritte ai lati, vediamo che le versioni originali hanno meno colore all'interno delle scritte. Questa volta abbiamo, invece di avere le scritte nere, ce le abbiamo bianche. Ma questo non cambia perché, come vedete, nelle carte false i colori delle scritte sono molto più spessi, molto più riempiti rispetto a quelli originali. Ok, ultimo fattore da tenere in considerazione è il back delle carte. Allora, abbiamo due diversi back, come abbiamo visto prima. Abbiamo quello dei leader e quello delle carte personaggio. Quello delle carte personaggio, come vedete, le carte false sono leggermente più scure rispetto a quelle originali. Questo è anche un problema perché la differenza non è netta rispetto a quelle delle carte leader. Quindi fate molta attenzione anche qua perché la differenza tra due carte è davvero poca. Quindi le carte false personaggio hanno il back più scuro rispetto a quelle originali. Poi vediamo le carte leader. Le carte leader, a differenza delle carte personaggio, sono diverse perché le versioni false sono nettamente più chiare rispetto a quelle originali. Come vedete qua, è molto più facile riuscire a riconoscere se una carta è falsa oppure no. Vedete, il back della carta falsa è chiaro, mentre il back della carta originale è scuro. Eccole qua. Come vi ha spiegato Mara all'inizio del video, se avete qualche dubbio riguardo ai vostri futuri acquisti, allora io vi invito ad entrare nel nostro gruppo Telegram dove ci sono molte persone disposte ad aiutarvi nel caso siate insicuri di un impossibile acquisto perché hanno molta più esperienza e sanno riconoscere facilmente le carte originali da quelle false. Quindi ragazzi vi lascio il link in descrizione, se non siete ancora entrati vi invito ad entrare. Siamo veramente tantissimi, 1600 membri, tutti pronti e disponibili per aiutarvi a condividere questa bellissima passione. Spero di esservi stato d'aiuto, di aver spiegato al meglio come riconoscere le carte originali da quelle false. Scrivete nei commenti cosa ne pensate, io sarò subito disponibile per rispondervi. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ah, quasi dimenticavo. Una, due, tre. Carte false. Eccole qua. Via. Ta-ta-na!